Il paradiso degli amanti del pollo è a Scafati Sono da Pios, una storica polleria a Scafati che è diventata il paradiso del pollo A partire dai polli allo spietro da cui sono nati hanno iniziato a fare pollo di tutte le tipologie Questi erano i loro chicken tenders e la frittatina alla genovese di pollo I chicken tenders erano morbidissimi e succosissimi perché zangolati E la frittatina alla genovese di pollo era straordinariamente delicata Poi ho preso il loro chicken burger veramente disumano Ragazzi guardate qua che succosità Tutte le salse sono fatte da loro e abbinate perfettamente Poi ovviamente ho assaggiato il polletto allo spietro spettacolare e il pollo scoppiettato Con patanelle arruscate, pancette e provola cotto nel forno delle pizze Forse uno dei polletti più buoni mai mangiati in vita mia E poi che fai un polletto allo spietro non te lo porti a casuccia Che fanno queste box meravigliose col stughetto del pollo e le patate cotte col suo grasso Tagga un amante del pollo e se non è disumano non ne vale la pena